Maria e Gaia, tra le gambe azzurra, mentre tra le gambe azzurra, Alice, Angelica, Gaia, Erika, Elisa e Omajava. E gli sbagliatori, anche un applauso, Alberto, Leonardo, Elia, Francesco, Andrea, Paolo, Felicia, Elisa, Marguerita e Clara. La gara però si conclude, ma mi aspetta adesso un piccolo spettacolo, una piccola coreografia. La gara però si conclude, ma mi aspetta adesso un piccolo spettacolo, una piccola coreografia. La gara però si conclude, ma mi aspetta adesso un piccolo spettacolo, una piccola coreografia.